Il Rolando Furioso 2.0 è pronto per ripartire. La voglia, il cuore, i punti, il Catania del secondo corso Maran corre, prova e testa le soluzioni per fronteggiare il pericolo fiorentina. Il destino ancora beffardo, Maran ritorna e davanti a sé quel fantasma chiamato Montella che lo scorso anno riuscì a spazzar via stabilendo i record della storia rosso-azzurra. Ancora lui, Montella che da par suo deve scacciare un altro fantasma, il tabù Cibali dove non ha mai vinto. Avversario tosto la fiorentina, forse il peggiore per il Lea Catania senza Lodi e Peruzzi. Ma Maran cerca negli occhi dei suoi orgoglio, la rabbia di tornare ad essere semplicemente Catania. Rolin, nonostante il dolore alla spalla, stringerà i denti, spoglie le grottaglie e guarderanno a vista il noi arrivato Viola Matri. Su Quadrado, Spauracchio, numero 1, Biraghi, oppure dal cilindro Rolin. Modulo, il 4-3-3, la garanzia il 4-2-3-1, con Castro su Pizzarro la variante. Il resto sarà solo cuore, campo e spinta del Massimino. Non una partita come le altre, la ventesima, l'inizio del girone di ritorno, l'inizio del nuovo corso. Alla ricerca per Maran magari della vittoria numero 20 da allenatore Etneo. Punti pesanti, insomma, come pesante potrebbe essere il rinforzo offensivo dal calciomercato. Da Roma continua il pink bong tra Sassuolo e Catania per Flocari.